l'interesse concorrenziale dell'impresa, secondo me il datore di lavoro ha un grosso problema, non riesce a dimostrare la divulgazione, per cui si intende un comportamento di comunicazione, dice la giurisprudenza, a un soggetto sensibile, cosa che il giudice della controversia di lavoro probabilmente non è. In questa materia è evidente che l'articolo 2105 entra in conflitto, in qualche modo conflitto, in tensione, con la disciplina del degredo legislativo 196 del 2003, e cioè il trattamento dei dati, con alcune precisazioni evidenti. Il degredo 196 del 2003 riguarda, torto o ragione, il trattamento di qualunque dato, mentre l'articolo 2105 pone un obbligo che attiene a informazioni riservate. Se io racconto gli affari della mia collega, probabilmente mi rendo odioso e probabilmente posso violare dei principi sociali, ma non violo informazioni riservate ai sensi dell'articolo 2105, nonostante ne sia venuta conoscenza nell'assolvimento dell'attività lavorativa. Mentre probabilmente violo il degredo 196 del 2003, che riguarda il trattamento di qualunque dato, salvo poi vedere come si configurano gli obblighi strumentali. Si è a lungo indagato in dottrina, soprattutto una decina di anni fa, sul rapporto tra il divieto dell'articolo 2105 e i dovieti che derivavano dalla legge del 97 e poi dopo dal degredito 196 del 2003. In realtà una sovrapposizione degli obblighi non c'è. Il decreto 196 del 2003 riguarda quello che lo stesso decreto chiama il titolare del trattamento. Gli obblighi, direi quasi tutti, forse c'è qualche norma su cui si potrebbe discutere, ma quasi tutti gli obblighi attengono a comportamenti che l'organizzazione nel suo complesso deve avere nei confronti delle persone alle cui informazioni si riferiscono. L'articolo 2105 ha un taglio settoriale, si colloca su un piano diverso, identifica appunto il dovere di fedeltà e quindi i limiti del dovere di riservatezza del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e circoscrive perciò il legittimo esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro per dei comportamenti infedeli del lavoratore nei suoi confronti. In sostanza l'articolo 2105 serve a fare in modo che il titolare del trattamento dei dati del decreto 196 del 2003 possa garantire anche con l'esercizio del potere disciplinare il rispetto delle regole dell'articolo 196 del 2003 da parte dei collaboratori che entrano in contatto con le informazioni. Rispetto al sistema di tutela dell'articolo 196 del 2003, l'articolo 2105 è una norma di carattere strumentale. Io, titolare del trattamento per usare il lessico del decreto 196 del 2003 e quindi destinatario di tutti gli obblighi che il decreto prevede, qualora i miei lavoratori e quindi gli incaricati del trattamento per come li chiamerebbe il decreto 196 del 2003, violino, non mi aiutino a rispettare, non mi consentano di rispettare. Gli obblighi che io ho nei confronti dei consociati ai sensi del decreto 196 del 2003 li punirò applicando l'articolo 2105 e di conseguenza potrò ottenere l'osservanza dei doveri che il decreto mi impone perché questi per timore delle sanzioni disciplinari faranno i bravi e mi consentiranno di rispettare gli obblighi che il decreto mi impone. Qui il vero tema, il tema di come si riesce a provare è un tema interessantissimo ma c'è poco da dire nel senso che occorre una prova di qualunque tipo sul comportamento di divulgazione e per questa ragione, nonostante la norma abbia una violazione enorme, le controversie sono un po' che c'è, quindi qui sulla prova c'è poco da dire. Qui il vero tema è un altro, il vero tema è come si fa a identificare le informazioni riservate e qui, contrariamente a quello che si scriveva negli anni 60 e 70, nell'attuale società probabilmente non esiste un concetto unitario di riservatezza, ma ci sono tutta una diversa caratterizzazione della nozione di riservatezza, come ha detto la dottrina civilistica che parla di scomposizione della riservatezza, è necessario di considerare le tante forme di riservatezza che esistono nel nostro ordinamento, i tanti tipi di riservatezza. Facendo un esempio, riprendendo un esempio fatto prima che non è niente che vede con la concorrenza, di certo in cora nella violazione dell'articolo 2105 la nostra segretaria che dice cosa che non dovrebbe dire, perché in questo caso le informazioni riservate nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato derivano dalla riservatezza professionale che in qualche modo si ripercuote nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato. La giurisprudenza affronta sostanze, poche, poche tipologie di riservatezza delle infinite possibili. La riservatezza degli operatori ospedalieri che andano a raccontare le cose dei pazienti, che è un po' simile a quella di cui abbiamo appena parlato, ci sono una serie di sentenza. Per lo più riconoscono il legittimo esercizio del potere disciplinare nei confronti di personale ospedaliero che racconta le cose che non dovrebbe dire sulle cartelle cliniche. C'è un discreto dibattito giurisprudenziale sulla riservatezza delle informazioni fiscali, il dipendente arrabbiato per qualunque natura che denuncia all'autorità fiscale le malefatte del datore di loro e c'è un discreto orientamento giurisprudenziale che è quello che ci interessa oggi, sulla violazione dell'obbligo di riservatezza con la divulgazione di informazioni rilevanti al fine concorrenziale. Sulla divulgazione di informazioni alle autorità fiscali la dottrina e la giurisprudenza sono abbastanza divise. Alcune ritengono che il comportamento sia da considerare di per sé illecito perché il datore di lavoro ha il diritto di pretendere nell'ambito del rapporto sinalagmatico che non ci sia una lesione del suo interesse alla riservatezza, nel senso che di fronte all'arrivo della guardia di finanza il lavoratore certamente non deve commettere, cioè non ha tutto il diritto di non commettere le altre, ma che diverso è la denuncia spontanea di comportamenti illegittimi del datore di lavoro. Altre ritengono che prevalga l'interesse alla repressione dei comportamenti illeciti che in questo caso non possa essere configurato un obbligo di riservatezza del lavoratore proprio perché prevale l'interesse all'accertamento imparziale dell'eventuale commissione di comportamenti leciti da parte dello Stato. Sulla violazione di norme di carattere concorrenziale pacifica all'illiceità il problema è l'identificazione delle informazioni riservate e cioè la delimitazione di quelle informazioni che per loro oggettiva natura possono essere considerate riservate anche con riflessi penali in caso di violazione del segreto qualora le stesse norme possano essere considerate segrete. E qui ho imparato perché francamente il lavorista qui si muove su un terreno abbastanza complesso, ho imparato dall'avvocato Bergomi che il punto di partenza e qui il lavorista devo dire la verità rimane un po' perplesso ma che il punto di partenza prima ancora dell'oggettiva la natura delle informazioni è l'imposizione unilaterale del vincolo di riservatezza e cioè l'identificazione formale delle informazioni riservate con una dichiarazione, potrebbe discutere sulla natura negoziale del datore di lavoro, che circoscrivendo i temi cruciali per la sua organizzazione impone il vincolo di riservatezza nei confronti del lavoratore subordinato. Tema che il diritto industriale è ampiamente sviluppato e su cui devo dire, lo dico con grande franchezza, il diritto del lavoro è arretrato, è arretrato. Se voi andate a guardare le non molte sentenze presenti sull'articolo 2105 sul dovere di fedeltà c'è una discrasia tra come il tema della divulgazione è concepito ai fini dell'esercizio del potere disciplinare come lo concepisce il diritto industriale. La giurisprudenza di diritto del lavoro è molto più brutale, è molto più semplificata, è molto più brutale e sottostima l'elemento di identificazione da parte del titolare del diritto degli elementi indicativi della riservatezza, non dice occorre un atto del datore di lavoro che sottolinei, o comunque è utile un atto del datore di lavoro che sottolinei il carattere riservato delle informazioni. La giurisprudenza sull'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro affronta il tema in modo molto più drastico e usa un carattere teleologico. L'informazione ha leso un interesse fondamentale del datore di lavoro? Hai divulgato l'elenco dei clienti? L'hai dato ai concorrenti? Hai detto che tipo di necessità hanno i concorrenti? Che poi il datore di lavoro avesse programmato, predeterminato, identificato il carattere riservato delle informazioni alla giurisprudenza di carattere lavoristico interessa molto poco. Usa un criterio teleologico. È stato leso una aspettativa significativa del datore di lavoro, la sua attività imprenditoriale, ha avuto un documento? Questo è il concetto di riservatezza, devo dire, abbastanza arretrato rispetto all'elaborazione del diritto industriale che il diritto del lavoro ha nella materia concorrenziale. esempio tipico. Per puro caso il datore di lavoro scopre che il prestatore d'opere divulga a soggetti interessati informazioni sui clienti di qualunque natura. Difficile che ai fini della valutazione della legittimità del potere disciplinare si dica le informazioni non erano riservate. Il potere disciplinare si impernia sull'atto di divulgazione in quanto tale. C'è una, diciamo, maggiore rilevanza del comportamento? Hai parlato? E il fatto di aver parlato costituisce di per sé un inadempimento contrattuale, da quello di andare a vedere hai effettivamente detto cose che avevano uno specifico e oggettivo carattere riservato. Non credo che questi due diversi atteggiamenti del diritto del lavoro e del diritto industriale siano inspiegabili. Tutto sommato il diritto del lavoro interessa a riprimere i comportamenti devianti e assicurare mediante l'esercizio del potere disciplinare il regolare svolgimento dell'impresa. È abbastanza logico che da questo punto di vista, cioè dalla valutazione della legittimità del potere disciplinare, si consideri il comportamento hai detto al concorrente, hai detto a qualcuno, piuttosto che soffermarsi sull'entità della violazione della riservatezza. Poi è molto possibile che comportamenti poco rilevanti ai fini dei criteri del diritto industriale possano essere sufficienti per l'applicazione di sanzioni disciplinari. Quindi è molto probabile che ai fini della valutazione della legittimità del procedimento disciplinare ci sia un arretramento della tutela e quindi un ampliamento dei comportamenti illegittimi e come tali considerati meritevoli delle sanzioni, in particolare per la violazione del divieto di divulgazione. Grazie. Grazie al professor Gagnoli per la sua relazione che ha, a mio avviso, coniugato al massimo grado la profondità dell'analisi scientifica con la pragmaticità, la chiarezza dell'esemplificazione giurisprudenziale. Credo che sia stato soprattutto di interesse, almeno per me, tra le tantissime cose che egli ha detto, l'esempio, il riferimento alla discussione che ha avuto oggi in Corte d'Appello laddove ha discusso sul piano contrattuale, riferendosi quindi all'articolo 2105, della divulgazione di alcune notizie riservate mediante la comunicazione in giudizio. È un tema che facendo il parallelo col profilo extracontrattuale di cui cercherò di riferire brevemente alla fine se ve ne sarà il tempo, è un tema di cui a proposito della concorrenza sleale si è a lungo parlato già negli anni 60-70, penso alla monografia del professor Ghidini, alla rassegna del professor Ghidini sulla quale noi studenti di diritto industriale di Modena abbiamo studiato a lungo, laddove si faceva l'esempio a proposito dell'atto di concorrenza sleale per denigrazione ai sensi dell'articolo 2 dell'articolo 2598 della comunicazione che veniva effettuata, della comunicazione di notizie falsi, di notizie menzioniere che veniva effettuata ad un direttore di banca, quindi ad un soggetto solo non vi era una divulgazione ad un numero illimitato di persone così come la giurisprudenza richiede, ma tuttavia una comunicazione che di per sé era in grado di arriccare danno alle imprese. In ogni caso, ringraziando di nuovo il professor Gagnoli, passo la parola all'avvocato Renato Scorcelli di Milano, noto professionista lavorista a Milano, da sempre esperto in diritto del lavoro, vicepresidente dell'Associazione Gius Lavoristi Italiani per la Lombardia, autore fra le altre cose di diversi contributi in materia di patto di non concorrenza che è l'argomento sul quale ci intratterrà. A lui la parola. Buongiorno a tutti. Io ringrazio innanzitutto l'ordine degli avvocati e la Fondazione Forense di Modena per avermi invitato a partecipare a questo interessante evento e anche per il tema che mi è stato assegnato. Io ho cercato di concentrarmi su quelle che sono alcune delle questioni più dibattute in materia appunto di patto di non concorrenza. Evidentemente noi parliamo di patto di non concorrenza con il prestatore di lavoro subordinato. Mi scuso se parto dal quadro normativo di riferimento ma io sono sempre abituato ogni volta ad andare a rileggermi le norme perché tutte le volte poi si scopre sempre qualcosa di interessante che magari anche in quelle più banali non avevamo notato. La norma qui ovviamente è costituita dall'articolo 2125 del codice civile la cui rubrica è intitolata appunto patto di non concorrenza. Lo dico questo perché anche la rubrica della norma ci potrà poi aiutare dopo ad inquadrare alcune questioni che si sono poste con riferimento all'articolo 2125. La norma stabilisce appunto che il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro per il tempo successivo alla cessazione del contratto è nullo se non risulta adatto scritto se non è patuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto di tempo e di luogo. Il secondo comma poi stabilisce quella che può essere la durata massima del patto di non concorrenza individuandolo in cinque anni per i dirigenti e in tre anni per le altre categorie di prestatori di lavoro e stabilendo che se le parti hanno previsto una durata maggiore essa si riduce automaticamente a quella prevista dalla legge. Innanzitutto già come dire leggendo ma questo lo vedremo poi dopo la norma non può non balzare evidente agli occhi il fatto che a differenza di quanto accade per altre disposizioni di legge non ci si limita a disciplinare l'istituto ma si esordisce dicendo il patto è nullo se non rispetta determinati requisiti e questo come vedremo è la prima dimostrazione del disfavore con cui già il legislatore del 1942 cioè del codice civile prima che venisse emanata la costituzione guardava al patto di non concorrenza ma ci torneremo dopo perché quando affronteremo appunto la questione soprattutto dei limiti di oggetto di tempo e di luogo. Dicevo questa è la norma che disciplina il patto di non concorrenza con i lavoratori subordinati. Si ritiene infatti e sul punto se non sbaglio esiste solo un lontano precedente del Tribunale di Torino che si è pronunciato in senso contrario che l'articolo 2125 non sia applicabile nemmeno estensivamente o analogicamente ad alcune categorie di prestatori di lavoro autonomo e non mi riferisco ai lavoratori autonomi to cure ma ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi. La giurisprudenza e la dottrina infatti sul punto ritengono che a queste categorie di lavoratori in qualche punto si tratti di co-co-co o di collaboratori a progetto debba applicarsi l'articolo 2596 del codice civile su quale poi forse i relatori che interverranno di mevi intratterranno che è la norma che disciplina appunto i limiti alla concorrenza che possono essere pattuiti tra imprenditori che prevede dei limiti a questi patti meno rigidi rispetto a quelli previsti dall'articolo 2125 essendo necessario che il patto in questo caso sia circoscritto a una determinata zona o a una determinata attività e che non acceda a una determinata durata. Io personalmente penso per quello che può valere la mia opinione in materia che la giurisprudenza prima o poi qualche passo in avanti sulla applicazione in via analogica o estensiva dell'articolo 2125 anche ai collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativo debba farli e su questo punto esiste anche una sentenza che qualche spunto potrebbe dare ai giudici di merito una sentenza della Cassazione che io non ho citato nelle mie slide che poi magari potrò potrò darvi che è chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità in via analogica o estensiva dell'articolo 2125 agli agenti prima che venisse emanato l'articolo 1751 bis che è la norma appunto che disciplina il patto di non concorrenza in materia di agenzia aveva escluso l'applicabilità analogica agli agenti di commercio dell'articolo 2125 sul presupposto che tra l'agente lavoratore parasubordinato e lavoratore subordinato vi fosse una differenza fondamentale che impedisse l'applicazione dell'articolo 2125 data dal fatto che l'agente a differenza del lavoratore subordinato correva un rischio connesso allo svolgimento della propria attività ora io però penso che anche per come è stato disciplinato a livello normativo il rapporto di lavoro coordinato continuativo ed il contratto di lavoro a progetto soprattutto con gli interventi della legge Biagi e anche quelli successivi dal punto di vista perlomeno dell'assenza di rischio questi tipi di rapporti autonomi parasubordinati siano diciamo del tutto identici ai rapporti di lavoro subordinati senza considerare la progressiva assimilazione che vi è stata per questa tipologia di rapporti sul piano fiscale e anche sul piano previdenziale quindi forse da una giurisprudenza più sensibile alle esigenze lavoratori ci si potrebbe aspettare qualcosa di più piuttosto che lasciare il collaboratore del progetto o il collaboratore coordinato e continuativo alla tutela scusatemi che ho fatto confusione più ridotta prevista dall'articolo 2595 mi si è bloccato tutto eccolo qua allora vado mi è andata alla fine scusatemi un attimo allora sì ho portato giù le slide scusatemi ma non sono un grande allora tornando al patto di una concorrenza queste sono le problematiche sulle quali mi vorrei oggi soffermare sui requisiti di validità del patto quindi appunto la forma scritta i limiti di oggetto di luogo la durata e anche il corrispettivo perché poi sul corrispettivo c'è una problematica di non poco conto che riguarda non solo la congruità o meno del corrispettivo ma anche le modalità di erogazioni soprattutto grazie ad una giurisprudenza che devo dire soprattutto milanese che ha ritenuto per esempio incompatibile con l'articolo 2125 l'erogazione del corrispettivo nel corso del rapporto di lavoro anche in presenza di quelle che i miei illustri colleghi forbite che parlano molto bene gli inglesi definiscono un floor cioè un minimo un ammontare minimo del corrispettivo qualora quello pagato in costanza di rapporto non raggiungesse appunto una determinata soglia le problematiche della clausola di recesso e del patto di opzione trattamento fiscale e contributivo il resto sicuramente non ce la farò già sarà un successo riuscire a parlarvi di queste cose allora requisiti di validità velocemente dal profilo teorico il patto di non concorrenza viene inquadrato nella categoria dei contratti a titolo oneroso con prestazioni corrispettive laddove come dire lo scambio delle prestazioni è costituito a pagamento del corrispettivo e dall'assunzione di un'obbligazione di non fare da parte dell'adattore di lavoro studiandomi riprendendo in mano la materia ho visto che una questione che si era posta molto tempo fa peraltro era quella relativa al momento della stipulazione del patto di non concorrenza e cioè ci si era chiesti quando può essere stipulato il patto di non concorrenza può essere stipulato solo contestualmente all'inizio del rapporto del lavoro può essere stipulato anche nel corso del rapporto di lavoro può essere stipulato al momento della cessazione o anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro naturalmente parlo del patto di non concorrenza che rientra nell'ambito di applicabilità dell'articolo 2125 essendo il patto di non concorrenza comunque un negozio giuridico autonomo rispetto al rapporto di lavoro qui accede sia la dottrina che la giurisprudenza assolutamente prevalenti sono giunti a ritenere che il patto di non concorrenza possa essere stipulato anche nel corso del rapporto di lavoro quindi non necessariamente al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro ma anche al momento della cessazione si è posto il problema della possibilità di stipulare un patto di non concorrenza essenziale dell'articolo 2125 successivamente all'accessazione del rapporto di lavoro e a questo proposito secondo parte della dottrina un patto di non concorrenza stipulato dopo la cessazione del rapporto di lavoro non potrebbe essere governato dall'articolo 2125 bensì dalla norma che avevo appunto citato in precedenza cioè l'articolo 2596 questo sulla base di due rilievi il primo di carattere letterale per cui l'articolo 2125 parla di prestatore di lavoro parla di patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività lavorativa successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro elementi che dovrebbero indurre a ritenere la necessità dell'esistenza in vita di un rapporto di lavoro al momento della stipulazione del patto il secondo elemento era un elemento di carattere come dire logico sistematico e si diceva che se la razza dell'articolo 2125 era quello di tutelare la parte debole del rapporto di lavoro questa esigenza, cioè il lavoratore naturalmente questa esigenza veniva a meno una volta che il rapporto di lavoro era cessato diciamo che questo orientamento soprattutto dottrinale è stato sconfessato dalle sessioni unite della Corte di Cassazione che con questa sentenza del 1965 era 630 si sono pronunciate per l'applicabilità dell'articolo 2125 al patto di un concorrenza anche se stipulato dopo la cessazione del rapporto di lavoro se si tratta di un patto che diciamo è accessorio rispetto alla definizione di un conflitto di interessi tra datore di lavoro e lavoratore relativo al pregresso rapporto di lavoro ancora esistente al momento della cessazione del rapporto di lavoro la Suprema Corte è giunta appunto a queste conclusioni sul rilievo che in realtà la razza dell'articolo 2125 non sarebbe tanto quella di tutelare la parte debole del rapporto quanto di, come dire, evitare che la libertà di lavoro del prestatore di lavoro possa essere eccessivamente compressa in sede di appunto convenzionale di stipulazione di accordi con il datore di lavoro che sarebbero irrilevanti le argomentazioni di carattere testuale che ho citato in precedenza perché esistono altre norme del codice civile che parlano di prestatore di lavoro riferendosi anche a situazioni nelle quali il rapporto di lavoro è già cessato che in ogni caso questa interpretazione non si scontrerebbe appunto con l'esigenza comunque presente di tutelare la parte debole del rapporto di lavoro primo requisito di validità dell'articolo 2125 forma scritta è una forma scritta a sostanzia ma non a approbazione come invece prevista dall'articolo 2596 si è posto il problema in giurisprudenza se ai fini della validità del patto di non concorrenza debba essere necessaria la doppia sottoscrizione prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile la risposta della giurisprudenza prevalente anzi non mi pare di aver ritrovato precedente il disegno contrario è tendenzialmente negativa sulla base della seguente considerazione cioè che se anche il patto di non concorrenza viene normalmente predisposto dal datore di lavoro non potrebbe comunque trovare applicazione l'articolo 1341 del codice civile in mancanza di una prova a carico del datore di lavoro circa il fatto che il patto è stato stipulato in mancanza di qualsiasi trattativa negoziazione con il datore di lavoro che inoltre appunto questa norma richiederebbe una specifica sottoscrizione solo nel caso di patto di non concorrenza inserito all'interno di un documento più complesso e che comunque l'articolo 1342 potrebbe trovare applicazione solo se si tratta di contratti predisposti per una serie indeterminata di rapporti vi immaginate in questi casi la prova per il lavoratore è veramente difficile da fornire aggiungo che naturalmente il patto di non concorrenza può essere stipulato con qualunque categoria di prestatori di lavoro a me è capitato nella mia esperienza professionale di essere mi occupato di una lite che pendeva mi pare a Hong Kong tra una nota impresa italiana che produceva divani e un concorrente cinese che aveva assunto degli operai di questa società vincolati da un patto di non concorrenza quindi ovviamente si può stipulare questi erano esperti in imbottiture di divani pare che siano pochissimi quelli che sanno fare questo lavoro a un certo livello quindi può essere stipulato con operai può essere stipulato con quadri con impiegati anche se di solito naturalmente il patto riguarda personale appartenente alle categorie più elevate o più qualificate o comunque in possesso che possono arrecare un pregiudizio al datore di lavoro come ha sottolineato il professor Boscati e consiglio a tutti coloro che volessero approfondire la tematica del patto di non concorrenza di leggersi la monografia del professor Boscati nel trattato dello Schlesinger che è un libro secondo me chiarissimo bellissimo che contiene come dire un repertorio quasi tutta la giurisprudenza edita appunto sulla materia come dice giustamente il professor Boscati riassumendo un po' quella che è l'opinione prevalente della giurisprudenza in materia quando si tratta di valutare l'ha tenuto il libro è bello no? l'ho fatto pubblicare io mi ha autocomplimentato eh no non so io mi hanno tutto intervorato io ho avuto ho avuto l'occasione di fare un convegno anche con lui e mi sono complimentato perché è veramente fatto bene non ha lasciato non ha lasciato nulla a caso e dicevo come università di Bologna mi sbaglio è Bologna lui no è Milano è Milano è Milano è Milano perché c'ha la c'ha la 100 mila vabbè comunque sembrava doveroso fare un omaggio a chi ha dato un utile contributo alla materia e giustamente appunto il professor Boscati dopo aver sottolineato che questa materia forse più delle altre è una materia che è influenzata dall'orientamento della giurisprudenza e direi soprattutto della giurisprudenza di metodo perché poi come vedete quando andremo a parlare di corrispettivo si leggono sentenze di segno direttamente opposto circa la congruità del corrispettivo ma soprattutto quando si deve valutare la tenuta del patto di non concorrenza dal punto di vista perché quello poi è quello che dobbiamo fare noi avvocati quando viene non ho il cliente perché purtroppo noi abbiamo a che fare con le persone fisiche che firmano i patti di non concorrenza che li firmano nella erronea convinzione che i patti di non concorrenza non valgano nulla e che come dire siano carta straccia e io dico va bene quando firmano i patti di non concorrenza in senso dell'articolo 2.125 che comunque come dire non sono carta straccia che comportano oneri ed obblighi molto gravosi ma è ancora peggio quando per esempio firmano e mi dispiace che oggi questo non formi oggetto del mio intervento i cosiddetti patti di prolungamento del preavviso che diciamo sono molto utilizzati soprattutto nel settore del credito che ahimè sono ritenuti dalla giurisprudenza prevalente assolutamente legittime che forse sotto questo profilo creano al lavoratore come dire degli impedimenti sotto il profilo della possibilità di ricollocarsi sul mercato del lavoro ancora peggiori rispetto all'articolo 2.125 perché quale azienda mai sarà disponibile a firmarmi una lettera di assunzione ed aspettarmi magari un anno prima che io rassegni le dimissioni e come dire lavori tutto il preavviso mi sbaglio professore non so cosa la pensa lei sulla liceità di sono innocenti però sono stati inventati a Modena da un autorevole collega non so no forse ho capito chi è ma non c'è secondo me però però voglio dire sono sono sicuramente la giurisprudenza come dire li ritiene prevalentemente la giurisprudenza li ritiene legittimi dicevo comunque detto questo come avvocati abbiamo da fronteggiare le persone fisiche che pensano e le aziende ovviamente che vengono da noi vorrebbero perché oramai le aziende noi avvocati per le aziende siamo dei fornitori prestatori di servizio potessimo dargli già tutto bello scritto un pacchettato e poi se lo gestiscono loro sarebbe meglio in realtà fortunatamente così non è siamo professionisti intellettuali c'è bisogno delle nostre competenze del nostro apporto intellettuale per la gestione nel quotidiano per l'applicazione nel quotidiano e anche di questi principi non è possibile per le aziende redigere un patto di non concorrenza che sia buono e valido per tutte le stagioni un patto di non concorrenza è un vestito che il sarto deve cucire su misura su ciascun lavoratore tenuto conto delle misure della corporatura del lavoratore quindi non si potrà mai appunto come dire dare un patto di non concorrenza così da utilizzare per tutti e dicevo tornando al diciamo al problema al cuore del problema del patto di non concorrenza è individuare quelli che sono i limiti del patto di non concorrenza e i principi che il patto di non concorrenza deve rispettare per poter diciamo superare il vaglio di legittimità allora non vi è dubbio che il primo principio sono i principi costituzionali quello appunto che viene chiamato il limite qualitativo relativo alla possibilità che deve comunque permanere in capo al lavoratore che ha firmato il patto di non concorrenza di reperire un'occupazione confacente alla sua professionalità acquisita nel corso della sua esperienza lavorativa non solo diciamo presso il datore di lavoro col quale stipula il patto ma più generale nella sua vita lavorativa e questo perché diciamo vi è l'esigenza di tutelare dei principi costituzionali che sono la libertà del lavoro e appunto la tutela della professionalità del lavoratore e dall'altro il patto di non concorrenza come dire visto proprio il disfavore con il quale l'ordinamento diciamo guarda al patto di non concorrenza può essere ritenuto legittimo solo se è diretto a soddisfare un interesse del datore di lavoro che è meritevole di tutela ragion per cui il patto di non concorrenza può ritenersi legittimo solo se è diretto a diciamo tutelare o anibire attività effettivamente concorrenziali in danno del datore di lavoro in funzione della tutela di beni immateriali che sono appunto l'organizzazione l'avviamento la clientela eccetera che non possono essere altri che non trovano diciamo altre forme di protezione specifica nel nostro ordinamento poche parole come vedremo dopo un patto di non concorrenza che inibisse al lavoratore lo svolgimento di attività lavorative in settori non in concorrenza con il datore di lavoro nemmeno potenzialmente sotto questo profilo dovrebbe ritenersi nullo e diciamo anzi lo vediamo subito questo principio è già stato affermato dalla Corte di Cassazione nel diciamo con questa sentenza che è una bellissima sentenza perché un po' fa il punto della situazione sulle varie appunto problematiche connesse proprio ai limiti dell'articolo 2125 laddove la Corte di Cassazione ci dice che già la rubrica dell'articolo 2125 che è intitolato appunto patto di non concorrenza che deve indurre a escludere dal possibile oggetto del patto attività che sono estrane a quelle concretamente svolte dal datore di lavoro quindi il datore di lavoro può solo impedire col patto lo svolgimento di attività in concorrenza con lui non per esempio con società dello stesso gruppo questo problema si pone soprattutto appunto nel caso di rapporti di lavoro con società multinazionali ma io aggiungerei anche qualcosa di più a me capita spesso di vedere patti di non concorrenza con i quali si vuole per esempio inibire al lavoratore lo svolgimento di attività lavorative a favore di clienti o fornitori del datore di lavoro io anche per i motivi che ho appena illustrato qualche dubbio sulla validità di un simile patto proprio perché in questo caso non si inibisce lo svolgimento di attività lavorative in concorrenza mi si dice sì però l'interesse del datore di lavoro qui è che come dire colui che prima stava in azienda e conosceva le modalità di formazione dei prezzi dei prodotti dei servizi eccetera una volta come dire fatto il salto e passato all'altra parte non posso utilizzare quelle informazioni in danno del datore di lavoro però io mi chiedo e quindi piacerebbe sentire poi anche se si aprirà il dibattito l'opinione appunto di miei illustri colleghi ma è una fattispecie come dire che è quasi eccezionale avete visto l'articolo del 1125 è nullo il patto salvo che rispetti questi limiti può ritenersi diciamo consentita una simile limitazione dell'attività lavorativa del lavoratore io ho trovato ho trovato poi guardo appunto il professor Gagnon io a parte questa sentenza della Cassazione che come dire ha espresso un principio che secondo me può giustamente applicarsi anche a questo caso ho trovato solo un precedente del tribunale di Milano del 2007 che appunto nel quale il giudice ha affermato che a suo avviso sotto questo profilo quel patto doveva ritenersi appunto nullo essendo configurabile una simmetria con lo schema dell'articolo 2125 tale appunto da comportare l'invalidità del patto professore che ne pensa d'accordo bene sono contento no perché vuol dire non c'è ancora proprio una sentenza di una corte come direbbero gli inglesi superiore che si è ancora appunto pronunciata in modo chiaro sul punto però è un tema quindi da tenere presente si è posto anche quest'altro problema in giurisprudenza e cioè se l'oggetto del patto di non concorrenza possa riguardare solo le manzioni svolte dal lavoratore alle dipendenze del datore di lavoro o possa anche inibire lo svolgimento di altre attività estranee a quelle manzioni ma pur sempre appunto in concorrenza col datore di lavoro e su questo punto la giurisprudenza assolutamente granitica nel ritenere che se il nostro ordinamento ritiene un interesse meritevole di tutela del datore di lavoro quello di appunto tutelare la riservatezza relativa alla sua organizzazione di tutelare l'avviamento della clientela di tutelare appunto come dire l'integrità di quel patrimonio immateriale alla cui tutela appunto è funzionalizzato l'articolo 2125 del codice civile certamente deve ritenersi lecito un patto in concorrenza che sia diretto ad inibire anche lo svolgimento di attività non necessariamente coincidenti con le manzioni da ultimo svolte dal lavoratore e veniamo ora appunto al problema di come deve essere valutata la tenuta del patto sotto il profilo dei limiti di oggetto e di tempo e di luogo anche su questo proposito l'opinione della dottrina della giurisprudenza è assolutamente concorda nel senso che questi elementi non possono essere valutati singolarmente ma debbono essere valutati nel loro insieme tenuto conto ripeto delle capacità degli skills professionali del lavoratore e si deve stabilire se nonostante questi limiti permanga in capo al lavoratore una concreta possibilità di reperire un'altra occupazione coerente con la professionalità del lavoratore che consenta al lavoratore di assicurare a sé e alla propria famiglia una possibilità di guadagno alcune sentenze parlano di esistenza libera e dignitosa quindi in applicazione appunto questo perché scusatemi evidentemente perché la valutazione deve essere fatta come dire tenendo presente contemporaneamente i tre limiti e tenendo presente appunto le capacità professionali del lavoratore che non costa le capacità un'altra occupazione Grazie.